ciao a tutti sono Laura Antichi oggi vi voglio presentare Google Lens che è un'applicazione per mobile che si può scaricare dal Play Store per Android e per utilizzare Google Lens per iOS bisogna installare Google Photo per iOS l'app si può scaricare naturalmente dall'app Store vediamo ecco può essere anche per quanto riguarda Android attivata dal dispositivo Android dell'assistente di Google Google Lens sostituisce la precedente app Google Goggles e rispetto a quest'ultima qualche funzionalità in più può leggere testi in varie lingue italiano francese inglese tedesco spagnolo portoghese russo turco e tradurli in altre lingue scannerizza codici QR per trovare informazioni e codici a barre per trovare informazioni sui prodotti può aggiungere contatti attraverso la lettura di biglietti da visita o codici QR scansiona il testo usando la tecnologia OCR e ricerca prodotti simili aggiunge eventi al calendario trova indicazioni stradali restituisce informazioni sui ristoranti fornisci i nomi di piante può digitalizzare un testo ma ci permette di avere molte altre informazioni sui luoghi gli oggetti i percorsi quando usare Google Lens può essere usato in molte situazioni didattiche in classe anche outdoor per una ricerca per raccolta di informazioni sui oggetti di vario genere di uso comune o artistici per tradurre testi per copiare testi ecco andate a cercare Google Lens nel Play Store e una volta che l'avete scaricata questa app l'aprite apri vediamo ora subito come funziona cerca con la tua fotocamera vedete sotto che ho la possibilità della traduzione del testo quindi di avere il testo di cercare i compiti gli acquisti e gli acquisti faccio cerca e seleziono ad esempio la copertina di a questo libro ecco cerca vedete nella quindi clicco sul bottone e vedete che a mi da una serie di di informazioni del testo e quindi è molto utile per individuare tutto quanto tutto quante le informazioni sul testo stesso ha degli annunci naturalmente rivediamo un altro libro ad esempio questo il testo cerca ecco mi da come vedete anche qui tutte le informazioni sui 36 stratagemmi l'arte segreta della strategia e poi posso agire sul tasto cerca e mi riporta Google con tutte le informazioni che mi possono ritornare utili ritorno all'applicazione ecco ecco e adesso andiamo a cercare qualche cosa d'altro ad esempio mi potrei trovare davanti a un monumento storico adesso io lo faccio con una foto sul computer e andare in cerca e toccare con il tasto cerca qui tocca il pulsante scatto per cercare all'argo per ottenere tutte le informazioni su questa struttura architettonica che è il castello di San Giorgio individuarne il nome e poi avere la possibilità di andare a cercare in internet ulteriori informazioni oltre ad avere le immagini subito le immagini corrispondenti vi mostro ora un'altra funzionalità importantissima che è quella della traduzione dei testi quindi io vado su un testo come vedete in tedesco e ho fatto traduzione e me lo traduce esattamente in tedesco e quindi scatta una foto qui lo metto è molto interessante anche questa funzionalità posso selezionare poi il testo e seleziona tutto così posso copiare il testo copia testo ed è copiato negli appunti lo potrei mandare ad esempio per mail a me stessa oppure copiare in un file o mandare a qualcun altro posso anche copiare sul computer adesso vi mostro copia sul computer ok e quindi una volta che ho copiato sul computer posso aprire un file word sul mio computer per esempio un file vuoto e andare a incollare questo testo con l'opzione dell'incolla aspettate vediamo se me lo fa attivo copia sul computer dovrei aggiornarlo va bene ma me lo può comunque copiare aspettate aspettate aggiorna ok nessun computer ho trovato comunque mi dava la possibilità ecco attivo vediamo se lo copia ecco copia sul computer e poi vado nella file word e vediamo se riusciamo a copiarlo con l'incolla vedete che me l'ha incollato me l'ha incollato prima lo dovevo attivare comunque anche questa funzionalità è estremamente utile perché mi permette di comunque avere il testo tradotto di potermi leggere con calma ma come vi dicevo vi ripeto le funzionalità che nella traduzione del testo sono queste molto interessanti che mi dà la possibilità innanzitutto di tradurre il testo potrei anche avere necessità durante un viaggio di istruzione di leggere ad esempio delle informazioni stradali leggere delle informazioni in una mostra su opere d'arte eccetera eccetera il fatto di che mi possano queste informazioni essere date nella mia lingua mi può facilitare l'immediata comprensione di quello che sto guardando quindi queste sono le funzioni base ora andiamo anche a vedere cosa altro si può fare come vi dicevo posso ottenere informazioni su diverse cose come piante e oggetti di vario genere ad esempio se appunto la telecamera sempre in modalità cerca su una pianta faccio cerca e mi dà i risultati relativi alla come potete vedere alla pianta prattino e pratolina comune punto ora il cellulare su l'applicazione su il vaso di nutella posso anche allargare va bene facciamo cerca e tocco il pulsante di scatto e vedete che mi dà il pulsante di scatto i risultati correlati al prodotto quindi ottimo per il riconoscimento pure dei prodotti punto la telecamera ora sulla sempre in modalità cerca sul merge cube e vedete che mi dà anche qui tutti i risultati corrispondenti alla possibilità di cercare con google le informazioni su questo questo è rvr hologram quindi 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 quindi